Come nel gioco dell'oca per la questione della bonifica sui siti inquinati di bussi si torna sempre alla casella di partenza. Infatti il Ministero dell'Ambiente ha dichiarato improcedibile il documento sull'analisi di rischio per la ex Montecatini di Piano d'Orta redatto da Edison, nonostante una conferenza di servizi in cui Arta aveva espresso le sue perplessità e chiesto modifiche sostanziali al documento. Il Forum dell'Acqua chiede al nuovo governo regionale l'apertura di una vertenza bussi e il potenziamento degli uffici che si occupano dei siti inquinati regionali più di 800 oltre al potenziamento dell'Arta. A 12 anni dalla scoperta del sito inquinato di bussi e dopo la promessa in campagna elettorale del Ministro dell'Ambiente Costa di uno sblocco immediato del cantiere da 45 milioni sul progetto di bonifica redatto dall'ex commissario Goyo su cui però pende un ricorso di Edison Altar, il Forum dell'Acqua chiede che si inizi finalmente a recuperare il sito tra i più inquinati d'Europa. Sì, anche su questo il Ministro aveva annunciato la firma dell'accordo per la bonifica usando 45 milioni di euro già disponibili per le discariche 2A e 2B anche su quello passano, praticamente un anno è passato dalla giudicazione della gara ma i lavori non vengono consegnati. C'è anche la questione del sito industriale di bussi, cioè il popolare industriale, fortemente contaminata su cui la provincia sono anni che non individua il responsabile della contaminazione. Oggi noi dovremmo andare lì e vedere le ruspe, gli operai a lavorare, centinaia di operai a lavoro e invece questi ritardi sono inaccettabili anche per questo e impediscono di arrivare alla bonifica. I ritardi su bussi sono solo dovuti alla burocrazia o c'è dell'altro? Beh, diciamo che certe volte a pensare male ci sa zecca però non vogliamo pensare questo. Noi vogliamo che gli enti vadano, procedano celermente. Al Ministero dell'Ambiente quando c'era una funzionaria, la d'aprile, che purtroppo è andata via dal Ministero, le carte volavano, diciamo così, o almeno andavano più veloci. Insieme ai rappresentanti del Forum dell'Acqua d'Abruzzo, anche le mamme NopFAS del Veneto e il Comitato Notriv di Taranto, attivo sulla vicenda Ilva. Si pensa infatti di spostare la questione bussi a livello europeo, come accaduto per Taranto. Il 24 di gennaio è arrivata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché noi ritenevamo che il governo italiano non stesse tutelando i cittadini di Taranto. Abbiamo dovuto ricorrere a un'autorità sovranazionale proprio perché la disperazione era tale per cui avevamo necessità che qualcuno ci riconoscesse dei diritti fondamentali alla vita e alla salute. e vogliamo che tutti insieme possiamo poi partecipare a questa manifestazione del 23 marzo a Roma perché è importante unire le forze, fare rete tra di noi perché noi non facciamo le battaglie per tutelare il nostro giardino. In realtà i giardini sono tanti e quando poi si uniscono diventano una distesa.